Altre anime che in qualche maniera sono sempre presenti in questa festa sono le donne, le donne sono l'anima di questa festa. Eccole qui, ce le abbiamo qui che stanno riposando, stanno facendo la rassegna stampa, discutevano del capitano che domani sarà presente. E in forze bisogna opporsi, bisogna salutarlo. No, 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 opporsi proprio, ma un raglio e fischiare, mica sta zitti e muti, sennò che ci si va a fare lì. Com'è andata in cucina quest'anno? Bene, solito bene però, sì sì, ce l'abbiamo fatta a fare tutto. Sì sì, c'è un bel team. Tordelli sold out ovviamente, no? Sì, come sempre. Il cibo è andato bene, nel programma siete soddisfatti? Sì. Ci sono stati dei bei spettacoli. Tutto è andato bene, nessun inconveniente? Grosse cose no. Chi l'ha visto? Eh sì, voi non le vedete perché l'unico spettacolo che vedete sono le pentole che bollono. L'unico spettacolo a cui ho assistito, due canzoni delle biciclette a righe, abbiamo cantato e ballato l'avvelenato di Guccini. Molto bravi. Credo complimenti, sicuramente saranno rinvitati forse anche più di una sera. Va bene, vi ringrazio, poi sarete ovviamente su YouTube. Su YouTube. Su YouTube siamo? Su YouTube, sì. Su YouTube. Che affare. Il mio secondo amore è YouTube. Grazie a te, Nato. YouTube, grazie. 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 Grazie a tutti.